Non solo le vette della Sila, ma anche le principali città della Calabria sono state imbiancate dalla fitta nevicata che ha interessato la Regione a partire dal pomeriggio di martedì 10 gennaio. Dopo una prima ondata che aveva investito il Regino, l'emergenza si è spostata tra Cosenza e Catanzaro, con sindaci di diversi comuni delle due province che si sono visti costretti a chiudere le scuole per la giornata di mercoledì. Niente scuola a Catanzaro, Cosenza, Crotone, ma anche a Rende, Castrovilleri, Saracena, Gizzeria e Serrastretta. Condizioni incerte anche nelle prossime ore e alcuni sindaci hanno deciso di prorogare la chiusura degli istituti scolastici anche per la giornata di giovedì. Nevicate anche sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, l'Aix a Salerno, Reggio Calabria, tra Padula, Buonabitacolo e Sibari e tra Cosenza e Falerna. Transito consentito solo alle vetture dotate di pneumatici da neve. Non si sono registrati comunque particolari disagi. Il presidente della regione, Mario Oliverio, ha telefonato e subito dopo ha scritto una lettera al ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, chiedendogli di attivare con urgenza lo stato di calamità naturale in tutta la Calabria. Lo stato di calamità, informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta, a detta del presidente si rende necessario a seguito degli avversi eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria negli ultimi giorni. La neve e le temperature estremamente rigide, infatti, hanno compromesso gravemente settori vitali per l'agricoltura e l'intera economia calabrese, quali l'agrumicoltura, l'ortofrutta e la vitivinicoltura. Le temperature rigide, tra l'altro, anche durante le ore diurne, hanno provocato disagio al settore zootecnico e ad alcuni prodotti depositati nei magazzini pronti per la vendita, che però, avendo subito dei congelamenti, non sono più commercializzabili. Dal canto suo, rende noto Oliverio, la Regione Calabria ha attivato le procedure per avviare i controlli al fine di verificare tutti i danni subiti.